Buongiorno a tutti, ciao, mi chiamo Sonia Mazza, arrivo dalla Svizzera. L'amore, nudi davanti al cammino, mentre in piazza la banda suonava, la solita vecchia canzone gridava, ti amo. E la bella sorpresa, detto io no, colpita, affondata, adesso lo so, che dentro di me moriva la mia, stupida e inutile poesia. Bacchi, mi piacevi come un Dio. Sonia Mazza, che piacere rivederti qua a Una Voce per San Marino, come stai? Bene, sono molto contenta di essere qua, come stai tu? Io sto bene, è vero, è quasi un anno, sei in buona compagnia anche questo giro, chi hai portato insieme a te? Sì, quindi il mio musicista c'è Vezio Bacchi che fa controbasso e Giacomo Belli che fa la chitarra. E quindi ecco, proponiamo questo trio, le canzone su questo trio, perché abbiamo tanti concerti in questo momento in Svizzera e in Italia con questo trio, quindi volevamo portarlo anche qua a San Marino. Bello, mi siete piaciuti tanto. E cosa avete portato, dei brani inediti? Sì, quindi due inedito, uno molto importante che si chiama Operai del Cuore, che parla veramente dell'ospedale, di come si può sentire quando tu stai in ospedale, che io ci sono passata, quindi è la mia testimonianza, anche il mio messaggio di speranza, perché come vedi sto benissimo adesso. Quindi volevo far vedere che si può uscire di questo periodo difficile. E poi è una canzone più di amore un po' torturato, perché sono abituata a questa. Quindi io dico sempre grazie ai miei ex che mi hanno dato tanto ispirazione. Benissimo, sei informissima, Sonia. Grande, spacca tutto e complimenti anche a voi, ragazzi. Grazie, grazie mille. Grazie a voi.